Cristiano Sicari, Annalisa Di Matteo e Paolo De Cesare sono i nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione del Teatro Marruccino di Chieti. Sicari, componente anche nel precedente CDA, assumerà il ruolo di presidente. I nuovi componenti sono stati presentati dal sindaco Umberto Di Primio. Le risorse economiche a disposizione sono sempre più scarse, ha detto il sindaco, per cui solo la captazione di finanziamenti privati potrà aprire scenari importanti a coproduzioni e cofinanziamenti. Negli anni precedenti, sia il CDA che il direttore amministrativo Cesare Di Martino, confermato nel suo incarico, hanno amministrato il teatro con oculatezza e competenza. Ora, a Giunto Di Primio, si proseguirà nella direzione già tracciata, tenendo a mente le disponibilità economiche e coinvolgendo altre istituzioni in qualità di partner economici. I propositi sono quelli di costruire sempre di più un riferimento culturale per Interabruzzo attraverso il Marruccino come offerta culturale di qualità e di livello. I nomi sono in parte nuovi, perché Cristiano Siccheri già faceva parte del vecchio CDA, oggi ne assume la Presidenza, e con lui ho nominato Annalisa Di Matteo e su indicazione della Regione Paolo De Cesare. Questo è il nuovo CDA che avrà due fondamentali punti di programma. Il primo è quello di tenere sotto controllo i conti del Marruccino, captando sempre di più fondi anche oltre quelli pubblici. E poi c'è quello fondamentale, quello di costruire una stagione teatrale che non abbia il respiro di un solo anno, ma di una plurianalità che ci dia la possibilità di costruire per davvero un'offerta che è per l'Abruzzo, ma va anche oltre l'Abruzzo. L'obiettivo, ha detto Annalisa Di Matteo, è quello di rilanciare il teatro rendendolo più social e più partecipato. I propositi sono quelli di lavorare sul teatro per quanto riguarda l'aspetto che mi compete, di cui ho avuto sempre, ho lavorato sempre anche precedentemente presso il Museo Barbella, di rilanciare il teatro sotto l'aspetto della comunicazione e sotto l'aspetto della partecipazione della cittadinanza. Un teatro più social, un teatro più partecipato, un teatro più vissuto con tante iniziative che possono far sì che il teatro diventi un fulcolo culturale per la cittadinanza stessa.